Da chi possiamo imparare a pregare? Beh, se ci pensiamo, innanzitutto dalla Sacra Scrittura. È quello che hanno fatto i monaci e gli eremiti dei primi secoli. Oggi voglio parlarvi di un libro, eccolo, La preghiera e la sublime vita in solitudine, di questo monaco del VI secolo, Martirius, questo è il suo nome latino, Sadona. Fu anche vescovo di Kirkuk, molto famoso nella sua epoca. Che cosa faceva di particolare Martirius? Martirius è un monaco che decide appunto di ritirarsi in solitudine, cosa che molti nel periodo appunto scelsero proprio per poter vivere in maniera più completa e anche più vera l'incontro con il Signore. Però nello stesso tempo questi monaci, queste figure, sono sempre estremamente pratici ed è quello che si ricava proprio dalla lettura di questi libri. Martirius racconta all'interno del suo libro della perfezione, ecco vedete che questo volume contiene degli estratti dal libro della perfezione e altre opere spirituali. Martirius fu uno scrittore prolifico, scrisse appunto questo libro della perfezione che è in più volumi, poi scrisse moltissime lettere e anche alcune massime che sono tipiche dei padri del deserto. In questo libro della perfezione nella prima parte si occupa proprio di dare tutta una serie di consigli di vita spirituale e in particolare anche sulla preghiera. La preghiera ci interessa particolarmente perché diventa veramente il tramite principale con il quale noi possiamo collegarci con il Signore, con Dio e dovrebbe informare tutta la nostra vita. Infatti vi leggo che cosa dice. Come è forte ed efficace il potere della preghiera? La preghiera può obbligare Satana che costringe la razza umana, può strappare i mali e liberare da tutte le tentazioni del mondo. Questo è il motivo per cui il nostro Signore ci ha comandato, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. E ancora, siate vigili in ogni momento e pregate così da essere giudicati degni di sfuggire a tutte le cose che accadranno e stare di fronte al figlio dell'uomo. Ecco, questa deve essere la nostra preghiera costante, sempre rivolta al Signore che informa tutta la nostra vita. È il Signore stesso che ci lo chiede. Nel Vangelo Gesù dice pregate incessantemente, continuate a chiedere lo Spirito Santo. Noi talvolta invece ci dimentichiamo di questo. Leggere i libri di queste figure e scoprire come loro hanno fatto a pregare ci è di grandissimo supporto. Martirius, come tante altre figure del suo tempo, è costantemente collegato, potremmo dire, proprio con le Sacre Scritture. Ci sono nel libro tantissime citazioni e noi vediamo che ogni sua parola in qualche modo è proprio corroborata, sostenuta da una citazione della Sacra Scrittura. E questa è una regola per tutti quanti gli eremiti e dovrebbe diventare proprio una regola anche per noi. L'altra cosa interessante che impariamo attraverso Martirius Sadona è di liberare il nostro cuore, di purificarlo e di trovare in qualche modo la pace anche all'interno della nostra vita frenetica. Lui non aveva ovviamente una vita frenetica proprio perché si era scelto l'eremitaggio, ma in una lettera molto bella che scrive a un suo amico, il quale gli chiedeva proprio come liberarsi dalle, dalla preoccupazione del mondo, gli dice, amico mio, scuotiamo il peso delle preoccupazioni del mondo, liberiamocene per passare tutto il nostro tempo nel pensiero di Dio. Così Egli purificherà la nostra anima e la farà volare verso il cielo in direzione sua. Poiché le parole di Dio rimuovono dalle nostre menti tutte le tracce di ruggine, ci alleggeriscono dal peso delle cose terrene ed elevano lo spirito alla visione della divinità. È quindi indispensabile che riflettiamo incessantemente sulle Sacre Scritture, perché è attraverso di esse che Dio ci parla. Ecco Martirius dice, prendiamo esempio da Maria, la sorella di Lazzaro, prendiamo esempio dai profeti che veramente si toglievano i sandali sul suolo santo e liberavano proprio il loro spirito per rivolgersi esclusivamente al Signore. E dice a questo amico, lo puoi fare anche all'interno della tua vita di ogni giorno. Questo è un piccolo insegnamento che possiamo prendere anche per noi. All'interno della nostra vita di uomini, donne presi dalla frenesia delle cose, possiamo essere veramente capaci di ritagliarci dei momenti di silenzio, dei momenti di vera spiritualità, dei momenti di collegamento con il Signore. Lo possiamo fare attraverso la lettura primaria delle Sacre Scritture, ma anche attraverso la lettura di questi libri, di questi libri che ci aiutano, perché a volte magari la Sacra Scrittura da sola ha bisogno di essere da noi e quindi non solo compresa ma anche ruminata, potremmo forse dire, questi padri, questi padri del deserto lo hanno fatto prima di noi e quindi in questo senso ci possono essere d'aiuto. Questo libro in particolare per quanto riguarda la preghiera ma anche tanti altri libri di questo genere sempre li troviamo sul sito www.monasterium.org e possiamo acquistarli, leggere le carte di copertina e poi appunto farne buon uso.